Benvenuti sul mio canale, oggi vi porto in grigi come duplicare l'auto e come fare soldi. Con l'auto duplicata potete dare anche ad un amico, quindi potete passavi l'auto. Vi usate la bufalo perché c'è il bypass dei 45 minuti, con altre manche non c'è, però potete sempre farlo. Legatevi all'esterno del garage e mettete l'auto davanti al garage senza andare troppo avanti, altrimenti vi entrerà. Dopodiché ammazzate il vostro amico, lui vi dovrà invitare a un duello, come lo scorso grigge. Andate avanti con l'auto, accettate il duello, uscite veloce. Dopodiché fate un salto e vi accomparirà l'auto, così per magia. Tirate fuori il vostro clone, abbandonate il duello e il vostro amico sta dietro l'auto principale, ovvero non quella duplicata. E basta entra l'auto, voi andate dentro a questa gara, che è semplice, la trovate proprio lì vicino. Aspettate il caricamento, appodiché abbandonate l'attività. Una volta abbandonate l'attività, fuori troverete l'auto. Io tipo qui, di solito compare in questi due punti, dove ho girato a visuale, ma me ne sono accorto dopo che era sotto la salita. Può capitare. Io ve la metto un po' più lontano. Questa qui infatti è la copia, mentre l'originale ce l'ha ancora il vostro amico perché si era seduto lui nell'auto. Portatela al garage e dovete avere il garage pieno, ovviamente. Sempre, come questo qui dicevo, dovete sempre avere il garage pieno. Entrate e sostituitela con un'auto che non vi piace. Dopo che avete fatto, potete prenderla e andarla a vendere. Come ripeto, usando quest'auto potete fare soldi più velocemente rispetto a altre auto, perché c'è il bypass dei 45 minuti. Adesso rifaccio di nuovo tutto il procedimento per farvi vedere che posso darlo al vostro amico il veicolo. Buona continuazione, se il video è stato dell'aiuto lasciate un like e un commento, iscrivetevi e fate girare il video. Al prossimo episodio Grazie a tutti.